È stato definito irricevibile dalla sezione di controllo della Corte dei Conti dell'Umbria l'aggiornamento al piano di riequilibrio finanziario presentato dal Comune di Terni dopo la bocciatura della prima stesura dell'atto. La decisione dei giudici contabili, secondo quanto si è appreso, sarebbe dovuta a questioni procedurali. Per il 24 gennaio prossimo è stata comunque già fissata, davanti alle sezioni riunite della Corte dei Conti, l'udienza per l'approvazione definitiva o meno del piano, che dopo l'aggiornamento prevede il ricorso al fondo di rotazione che era stato approvato dal Consiglio Comunale di Terni il 20 dicembre scorso. In una nota pubblicata sul sito del Comune di Terni, il sindaco Leopoldo Di Girolamo spiega di essere in attesa di approfondire il documento con i legali e con le strutture amministrative dell'ente e di rilevare che la Corte ha eccepito un aspetto procedurale ritenendo di non poter prendere in considerazione l'aggiornamento in quanto la procedura del piano di riequilibrio è ancora in atto, sussistendo, come è noto, un ricorso da parte dell'ente alla sezione riunita della Corte dei Conti dopo la mancata approvazione da parte della sezione regionale. Non c'è stato dunque, prosegue il primo cittadino, un pronunciamento nel merito dell'aggiornamento integrativo della cui validità rimaniamo convinti. Come è noto, prosegue il sindaco, la situazione contabile del Comune di Terni, pur nelle criticità che hanno chiesto il ricorso al piano di riequilibrio, non presenta quelle caratteristiche di grande preoccupazione che interessano numerosi comuni, ad iniziare da città di primissima rilevanza. Il primo cittadino di Terni conclude dicendosi fiducioso rispetto al giudizio che le sezioni centrali andranno a pronunciare il prossimo 24 gennaio. Immediata la risposta delle forze politiche d'opposizione a Palazzo Spada. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, parla di arroganza della maggioranza, il giorno dopo la prova muscolare in cui l'Assemblea Municipale ha respinto la proposta di collaborazione da loro avanzata per salvare la città. Qualcuno, aggiunge il rappresentante Ventastellato, dovrebbe avere l'umiltà di chiedere scusa e di dimettersi immediatamente. Invita il sindaco a chiedere scusa alla città anche il consigliere comunale di I Love Terni, Enrico Melasecche, che conclude con un durissimo attacco, chiedendo al sindaco di pagare di tasca propria la parcella dell'avvocato del Comune di Terni che sta seguendo il ricorso. Grazie a tutti.